Amici di Cuneo Dice, siamo qui con Massolino Luca, capiteranno dell'area a calcio. Ciao Luca. Ciao, ciao. Oggi un bel pareggio su un campo difficilissimo, una seconda in classifica. Vi siete comportati veramente bene perché il tempo testa è una delle squadre più forti del campionato. Sì, oggi è partita da squadra. Dura ma c'era da combattere, si sapeva, il campo di quelli piccoli dove batte male per tutti. E quindi compatti, siamo andati sotto, ma quindi ci abbiamo fatto pareggiare. Sì, infatti avete avuto una reazione molto rabiosa. Appena dopo il pareggio vi siete subito lanciati in area avversaria e poco dopo questo gol anche meritato forse. Sì, sì, oggi quello che secondo me ci ha premiato è stato il crederci fin in fondo e il gruppo. Nel senso che ci siamo aiutati, magari quando prendi gol una partita attesa così inizi e arrabbiarti l'uno con l'altro. Oggi quello che altre volte magari è mancato, il gruppo invece ha già fatto la differenza. Perché voi siete anche attenari fuori della zona per i off. Eppure perché si vede in campo, non siete messi così male con il gioco da dove stare tanto dietro. Voi dove vi vedete? Ma allora, sicuramente l'obiettivo è la salvezza. Dopodiché arriviamo da qualche partita anche un po' sfortunata. Quindi vedremo con il tempo i risultati. Arriveranno, siamo fiducioli. E i tuoi compagni che hanno detto alla partita di oggi? Siamo usciti contenti perché tutto sommato quando passi da perdere a pareggiare devi essere contento. Ma un po' la mano in bocca non lascia su partito perché attraversa, presa per andalzo. Ci avrebbe permesso di passare in vantaggio e magari sarebbe finito di passare bene. A quello sì. Non è che avete fatto quello di avere una gran buona partita e bocca l'oro per il futuro. Grazie mille. Ciao. Ciao.